Bella a tutti ragazzoli e benvenuti in questo nuovo video di Brawl Stars Oramai è diventata la nostra serie delle 7, vi piace, a me sta divertendo e ve la porto con piacere E ragazzoli, prima di partire con questo video vi ringrazio per i like, per i commenti, per i suggerimenti e per il supporto che sta dando a questa serie Vi ricordo di seguirmi sui social, mi trovate come Maullon941 sia su Instagram che su Facebook Vi ricordo che se volete sostenere il canale delle piccole donazioni lo potete fare tramite i link che trovate in descrizione al video ovviamente Detto questo noi partiamo con il video Ok signori, noi siamo rimasti qui con l'ubriacone che per quanto è simpatico, è simpatico, non mi fa cacare completamente Quindi in quest'altro video andremo a utilizzare il nostro bellissimo Bull Soprannominato da noi è il Toro, signori miei, è il Toro Vediamo se è il Toro, tra l'altro c'è pure la cintura da Torero, col col teschio del Toro Dico, quindi è perfetto, è il Toro signori Allora, che volevo dirvi? Ovviamente ragazzi avete dei sovrannomi da suggerirmi, scrivetemi nei commenti e li porterò molto volentieri per farvi piacere Cosa facciamo col Toro? Col Toro noi facciamo intanto una ferragemme Così ce lo riscaldiamo un po' e vediamo un attimino come si comporta il Toro È il Torero, messere Vediamo che cosa mi combina se il Torero è sempre in questa partita Allora C'abbiamo una Shelly che è rimasta ferma, questa cosa non è per niente buona Ok, c'ha colpi multipli a quanto pare il Torero Però c'ha una vita che finisce... Ah no, non era la vita quella Dai, 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 ammazza Shelly, ammazza Shelly E c'è il robottino, che carino il robottino, non l'avevo mai visto il robottino Allora, c'ha dei colpi molto interessanti Però Sono cortissimi praticamente Il supercolpo che fa? La cippa di nulla Prende a testata a tutti praticamente Non morire, non morire, ma porca miseria, siamo morti Allora, il Torero è simpatico Perché il colpo speciale, diciamo Parte di spallata che scansa di proprio Cioè, ammazza tutti senza farci proprio... Senza pensarci troppo C'è qualcuno qua dietro? C'è qualcuno nascosto qui? No, siamo andati a cercare funghi inutilmente Allora, qui vedo un po' di cacciara Tu devi morire, ok Tu, mi dispiace, Shelly per quanto mi sei simpatica Devi morire Qui mi sa che c'è un po' di troppa cacciara No, ero partito di spallata forte sul re misterio Invece mi ha dato lui una gomitata Mi ha ammazzato male Ok, fermi, fermi, fermi Ricopriamo quelle gemme prima che le prendono loro Ok Ocidiamo qui un po' di cacciara Ok Ho 4 gemme, signori Siamo 4 a 7 Voglio ricoverare un po' di vita Cortesemente, grazie Non stiamo andando benissimo in questa partita Però va bene C'è di essere qualcuno nascosto da qualche parte C'è di essere qualcuno nascosto da qualche parte Perché mancano Eccolo qua il torero 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 Stavolta ti Abbiamo ammazzato il remistiro Signori miei Abbiamo ammazzato il remistiro E ce l'andiamo velocemente Perché abbiamo 11 gemme E partire contro la rovescia Per noi E il torero Signori miei Contro la rovescia Contro la rovescia Non facciamoci uccidere Perché siamo quelli che Stanno portando la vittoria Nascondiamoci qui Belli tranquilli Non rompiamo le scatole a nessuno Stiamo belli Vittoria Signori Ci siamo partiti a casa 11 gemme Non siamo stati migliori Migliori è stato Loc Va bene Non ci interessa Comunque Relativamente Tanti bei punticini Per noi Va bene così Bello Bello È il torero Ci porta tante belle coppe Arriviamo a 285 coppe Il prossimo obiettivo È 300 Giusto Il prossimo obiettivo È 300 Che dobbiamo andare A sbloccare Per forza Perché dopo Sblocchiamo le missioni Scoperto che ci sono Le missioni Ho fatto di nuovo Afferra gemme Sì Va bene Non fa niente Due tori E un ubriacone Due tori E un ubriacone Non so quanto può andare bene Questa coppiata Per vincere Però ci proveremo Due tori E un ubriacone Due tori E un ubriacone Intanto una gemma Ce la siamo portata a casa Va bene così Stiamo calmi Stiamo calmi Stiamo calmi C'è un messicano pazzo No 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 Siamo morti Ma porca Di una paletta ambriaca Siamo tre gemme a zero Per l'oro Tre gemme a zero Per l'oro Dai 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 Vediamo di recuperare velocemente Allora qui c'è una gemma Che nessuno ha preso La prendiamo noi Là c'è un messicano pazzo Che deve essere No Che ci ha fregato la gemma Maledetto Stegli Non te lo dice pure Abbiamo Aiuto 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 Ma porca miseria Combattuta Combattuta Raga Combattuta Ci si capisce poco Tre gemme a uno sempre Abbiamo il super corpo Dobbiamo solamente capire Su chi affondarlo Tante gemme al centro del gioco Le recuperiamo tutte quante noi Voi dovete morire Tutti quanti Tu devi morire Tu devi morire male No Mi ha ammazzato lui No raga Ma i miei compagni Che stanno facendo Stanno facendo le passeggiate Dieci gemma a zero No 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 Chi è che c'ha tutte le gemme Ma non dovevi puntare Da quel lato Mannaggia a te Mannaggia a te Uccidilo Uccidile uno Porca miseria Uccidile uno Uccidile uno Uccidilo 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 Porca miseria Oh recupero le gemme Oh perfetto 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 Abbiamo ammazzato il tizio Abbiamo recuperato un sacco di gemme No 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 Montalo 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 Ma porca di una paletta ambriaca Allora non possiamo morire Non possiamo morire Stiamo calmi Via 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 Scappa Scappa zio Scappa zio Io non capisco i miei compagni cosa stanno facendo Cioè i miei compagni si stanno facendo le passeggiate turistiche Cioè l'obbriacone è nascosto lì Cioè ma io dico Ma devi giocare con noi Devi giocare con noi Non star lì a passeggiare Recupera Recupera Oh contro No non è partito il contro la rovescia Mannaggia di una miseria Però tu sei morto Sbaglio? No tu lo sei morto Aiaiaiaiaiaiaiaia Siamo morti pure noi raga Siamo morti pure noi però è partito il contro la rovescia Abbiamo le dieci gemme che ci danno la vittoria raga Abbiamo le dieci gemme che ci danno la vittoria Scappa zio scappa zio No siamo morti E' finita raga E' finita E' finita porca miseria Porca di una miseria Combattuta combattuta E siamo morti pesantemente Montalo montalo Dai dai uccidilo uccidilo Levagli le gemme Ne hanno diciassette dai Come facciamo Uno zero è finita Ma porca miseria raga Avevamo tutte e dici le gemme per vincere Ci siamo fatti fregare Ma c'era l'obbriacone di turno Non partecipava Dai Uffa Sì saliamo di grado Ma vedi cosa ci facciamo No no saliamo di esperienza Mannaggia Ma sì Toro mio Non abbiamo preso nemmeno una coppa Dai Non posso chiudere il video con una sconfitta Non ci sto Non ci sto proprio Geneticamente Non ci sto a chiudere il video con una sconfitta Il nostro toro No Di nuovo Speriamo che questa volta l'obbriacone partecipi Speriamo che questa volta l'obbriacone partecipi Sembra lanciarsi in battaglia Sembra lanciarsi in battaglia E questa è una cosa buona Oh sì Sì Si sta tirando anche le sue Tu devi morire però Perché ti sei fregata la mia gemma No Anche tu devi morire male Io distruggo tutto Distruggo tutto Come ho fatto a saltare Ma forse col pulsantino ti salta Abbiamo due gemme Per noi Attenzione Occhia a non morire Occhia all'acido Devo capire qual è il nostro acido E qual è il loro acido Ok Dai dai che recupero le gemme Scegli mia Mi dispiace Non giochi con me Quindi ti ammazzo Abbiamo sei gemme E ce le ho tutte io Signori miei Sei gemme E ce le ho tutte io Infatti stanno puntando su di me I bastardi Dai 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 Ok Ne hanno presa una Ne hanno presa una Noi continuiamo a difenderci Da lontano Qua c'è un ubriacone Che è morto Ok Sette gemme a uno Non morire zio Sette gemme a due Dai dai Da un morire Dai dai Va bene così Otto gemme a due Occhia all'acido Occhia agli acidi Occhia agli acidi Morto Questa gemme l'ho presa io Nove Ai 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 Dai dai L'ultima 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 Conta la rovescia Scusami miei Conta la rovescia Ai 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 Nel frattempo è arrivato un messaggio su whatsapp Non vi preoccupate Dai 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 Dieci gemme a due Dieci gemme a due Devo dire Dai 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 Sette secondi alla fine Non dobbiamo morire Quattro Tre Due Due Uno E' finita Andata signori miei Abbiamo concluso con una vittoria E non potevamo concludere il video con una sconfitta Signori miei Migliore lubriacone E non lo so sinceramente E non lo so Però va bene Noi ci partiamo a casa Il secondo grado Del nostro torero Buono le coppe Buoni teschi Buono tutto E forse poche coppe Infatti Arriviamo a 293 coppe Ce ne mancano 7 Per arrivare al prossimo pass Va bene ragazzi Detto questo Vi ringrazio per guardare il video Vi ringrazio per i like Per i commenti Per i risultati Noi ci vediamo sempre qui sul canale Per un prossimo contenuto Bella raga Ciao